Marco Giallini è un volto noto del grande schermo e nella sua carriera ha interpretato circa 40 film. L'attore, 55enne, si è raccontato in un'intervista a Vanity Fair, dove ha parlato soprattutto del dolore seguito alla morte della moglie. Lei, per me è stata tutto. La madre dei miei figli, la donna con cui sono stato per 30 anni e che, dopo essersi sentita male, se n'è andata dalla mattina al pomeriggio senza che io le abbia potuto dire neanche ciao. La sua morte è un evento che ne io nei miei figli abbiamo mai metabolizzato. Non ne abbiamo mai parlato in casa. Non siamo mai andati al cimitero insieme, anzi, in 7 anni, al cimitero sono andato due volte in tutto. Le fotografie di mia moglie le ho a casa ma non le guardo, non è roba per me perché penso che lei è ovunque, nei ricordi, nelle stanze, nei viaggi a Barcellona che non farò più. Le parole dell'attore, esprimono un dolore immenso, e mai superato. Un dolore che però lascia spazio ai ricordi belli e alla voglia di vivere. Grazie. 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 Grazie.